Questa è una battaglia di civiltà, prima cosa, nel senso che non si può dare a un politico il 41b se non fa parte della mafia, perché quella è una legge fatta per la mafia. Allora, se si vuole mischiare le carte, e questo è il momento per mischiare le carte, e mette tutti quanti uguali, nel senso bene, l'uguaglianza mi sta bene, ma non mi sta bene che mi tratti come un mafioso, trattami come un comunista, trattami come un estremista, trattami quello che vuoi, ma non è giusto che mi dici che sono un mafioso, perché questa è una legge, il 41b è una legge mafiosa, è nata per mettere in difficoltà la mafia, invece adesso vogliono mettere in difficoltà, diciamo così, quelli che protestano. Noi siamo figli di Gaetano Glessi, siamo figli di Saverio, siamo figli di Lano Sol, intanto diciamo alla signora Meloni che non ha nessun diritto di parlare contro i terroristi, contro gli stragisti, le ricordiamo che tutti i peggiori stragisti del dopoguerra sono usciti dalla sua famiglia politica, solo i suoi amici fascisti che hanno messo le bombe di Piazza Fontana. Non farete il violento senso unico. Noi siamo figli di Piazza Fontana.